Salve da Marco Calabro per conto di Alleanza Mobiliari, ci troviamo oggi in uno stand al Moacase di Roma, uno stand dedicato dalle case e le cose alla Flexa. La Flexa è un'azienda danese che è specializzata in prodotti, sicuramente persone che lavorano in legno, in prodotti per bambini, che però in effetti sono delle zone notte che poi si possono convertire totalmente a prodotto per adulti. Quindi un doppio utilizzo del prodotto che in effetti risulta estremamente utile. Vediamo già dai prodotti che stiamo parlando di un segmento qualitativamente importante, e vediamo per esempio questo castello che ci stanno proponendo qua, vediamo che in effetti i particolari che lo rendono un prodotto per ragazzi sono particolari e che poi possono essere tranquillamente rimossi per farlo diventare un prodotto, una cameretta per adulti. Vediamo lo stesso concetto in queste altre camerette, chiamiamole così, che sono un sistema intelligente di riuscire a convertire un investimento realizzato nell'arredamento anche quando il figlio o la figlia diventa adulto, diventa più grande. Quindi una conversione di prodotto che è da tenere in considerazione nella scelta di una famiglia. L'azienda, come abbiamo detto, ha delle rifiniture che sono importanti, lo vediamo che stiamo parlando di rifiniture sicuramente di prezzo, e questa è una ragione in più per fare sì che questo tipo di prodotto possa durare nel tempo. Là vediamo nuovamente il brand Flexa, stiamo parlando di un'azienda danese. e a Roma praticamente gli esclusivisti sono le case, le cose, di cui stiamo vedendo il brand. Grazie sempre per ascoltare i miei video e arrivederci al prossimo.